L'amichevole tra Pescara e Frosinone inizialmente programmata per dopodomani alle 17 non si disputerà. La partita è stata annullata per motivi di ordine pubblico. La decisione è stata presa stamani a seguito dell'incontro che si è tenuto in prefettura a Chieti alla presenza di rappresentanti delle forze dell'ordine e delle due società. Tuttavia il Pescara manterrà il programma fissato e dopodomani disputerà comunque una partita sempre alle 17 contro il San Nicolò con pagine di Serie D con cui da tempo è in atto una collaborazione stretta sotto il profilo tecnico. Intanto resta vivo il mercato della società biancazzurra. Si fa sempre più probabile la permanenza rival adriatico di Valerio Verre dopo che l'Inter ha raffreddato il suo interesse per la mezzala mentre la Sampdoria ha virato sul polacco Linetti che costa meno dei 6 milioni richiesti dal presidente Sebastiani. Il reparto va comunque numericamente completato. Si puntava sul ritorno in prestito di Mandragora dalla Juventus ma il gioiellino di Scampia rischia a breve un'altra operazione per l'infortunio patito nella gara con Lentella. Il Pescara ha avviato allora contatti con il cileno David Pizarro 37 anni noto per i suoi trascorsi in Italia con Udinese, Roma, Inter e Fiorentina attualmente in patria nel Santiago Wanderers. Non è esclusa una forte accelerazione nelle prossime ore. Restano vive le piste che portano anche ad alcuni esperti centrocampisti italiani come Giulio Migliaccio, Alessandro Gazzi e Gian Piero Pinzi. Questione attacco. Ieri Alessio Di Massimo ha lasciato il ritiro per andare in prestito della San Benedettese. Andrea Cocco è in procinto di andare al Frosinone. Si scalda la pista in entrata per Pablo Daniel Osvaldo. Il talentuoso italo-argentino a 30 anni potrebbe rilanciarsi in rival adriatico. Al momento è svincolato e la partita si gioca sull'ingaggio. L'attaccante ha abbassato le pretese. 700 mila euro ma è ancora troppo per le casse del Delfino. Per il figlio d'arte Giovanni Simeone del River Plate ci siamo ma la situazione è destinata a sbloccarsi in via definitiva solo dopo le Olimpiadi che Simeone giocherà con la sua Argentina.